Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Il meno votato andrà a fare compagnia a un'altra inquilina della casa. La concorrente finita al televoto è Anita Olivieri, la cui punizione è stata decisa della produzione del Grande Fratello a causa di un biglietto inviato dalla madre e nascosto nella scatola dei medicinali. Con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio, il reality show di Canale 5 torna in diretta dopo la puntata di sabato e gli ingressi di Greta Rossetti e Rosanna Fratello. Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello, quella che andrà in onda lunedì 4 dicembre, ci saranno nuovi ingressi nella casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini ha rivelato direttamente nelle sue storie su Instagram che presto entreranno nuovi concorrenti, tra cui due ragazzi che varcheranno la famosa Porta Rossa proprio questa sera. Secondo le indiscrezioni uno di loro potrebbe essere Federico Massaro, di professione modello con 140.000 follower su Instagram. Il suo nome è stato rivelato da MondoTV24. Il nuovo concorrente si chiama Federico Massaro, si tratta di un modello, è abbastanza a seguito sui social, il suo profilo Instagram conta 138.000 follower. Al momento non sappiamo se abbia qualche collegamento con gli altri concorrenti. TVblog ha anticipato anche l'ingresso di una concorrente. Si chiama Monia La Ferrara ed è un'ex fidanzata di Massimiliano Varese. Varese ha conosciuto Monia nello scalo romano, c'era uno sciopero e lui ha fermato la prima hostess che ha trovato per chiedere informazioni. Così è stato folgorato dal suo sguardo. Di lei diceva, Monia è adorabile, si legge sul sito online. Un'altra dinamica di coppia nascerà nella casa. Dopo gli ingressi delle ex di Mirko Brunetti, ora arriva anche l'ex dell'attore romano. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.